Buongiorno, buongiorno, buongiorno di studenza, master di diritto dell'attuale, membro della 2-3 board dell'EPOSECTIVE MMI della preghetta, attualmente di tre risorse umane dell'AMA. Complimenti, buongiorno. Grazie. 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 Grazie a tutti. del manager per questa opportunità, perché a me mi hanno chiesto di definire il mondo di un tragettivo, ho detto che ho appassionato, perché credo che la collaborazione si possa arrivare fino a questo punto, fin da quando da giorni nemmeno lavoravo, mi hanno chiesto di andare a lavorare all'estero, ho affrontato questa avventura, ho fatto una maniera nell'estero e sono arrivato fin qui. E questo è quello che cerco di rasmettere ai miei collaboratori giovani, nemmeno lavorati, abbiamo in azienda, la stessa passione, lo stesso entusiasmo che ero io quando ero un giorno, giovane io nemmeno lavoravo.